Grazie Presidente, approfitto anche io per dire una battuta sull'ordine del giorno precedente nella quale si parlava della zonizzazione acustica della città storica, in realtà noi abbiamo messo nel regolamento che questa zonizzazione deve essere fatta per tutta la città e dunque non ha un'importanza particolare a fare un lavoro aggiuntivo rispetto alla città storica perché tutte le aree di Roma sono importanti tanto quanto il centro storico o piuttosto le periferie, per questo l'abbiamo ritenuto ridondante e non l'abbiamo approvato. Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno numero 3 c'è un piano comunale di risanamento acustico, oggettivamente c'è la possibilità di usare una pavimentazione fonoassorbente allora bisogna dire che bisogna valutare i costi prima di poter dire di poter fare una cosa per cui insomma voglio dire l'aspetto è sicuramente interessante anche se mi dice un tecnico che questa pavimentazione fonoassorbente ha particolare valore quando la velocità delle macchine è particolarmente elevata però la questione è vera che bisognerebbe fare una valutazione per questo motivo su questo ordine del giorno il Movimento 5 Stelle si asserrà. Grazie